Ci siamo, colleghi? No, sopra. Chi è la deputata? Bonaccorsi, ancora? Eccola, è riuscita. Ci siamo, eh? Hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 243, contrari 105, la Camera approva. Allora, procediamo. Se nessuno chiede di intervenire all'articolo 2 per dichiarazione di voto, non mi sembra. Dichiara aperta la votazione all'articolo 2. Massa, Murer, Fanucci, Colonese. Prego, deputato. De Maria. Ruocco. Labbate. Bene. Hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 246, contrari 108, la Camera approva. Siamo all'articolo 3. Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Colonese. Quarta pelle. Quarta pelle. Quarta pelle. Locatelli. Allora, quarta pelle non ancora si ha votato. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 251, contrari 105, la Camera approva.